Buona giornata amici siamo pronti, prontissimi per la rassegna stampa di Fano TV leggeremo insieme i giornali come tutte le mattine in Corriere Adriatico e il resto del Carlino sulle pagine locali faremo anche qualche occhiata alla regione ma insomma la nostra attenzione si inverterà soprattutto sull'una estensione un po' limitata della regione Marche. Ebbene oggi è venerdì 1 marzo 2024 e vediamo subito chi si festeggia nella giornata di oggi. Eccolo il santo è Sant'Albino di Angers visse tra il V e il VI secolo anche lui monaco, i monaci in Francia erano molto numerosi, fondarono molti monasteri ma Sant'Albino fu nominato anche vescovo della sua città e a lui devo dire sono stati attribuiti molti molti miracoli tanto da farne uno dei santi più venerati della Francia. Quindi i francesi sono molto devoti a Sant'Albino che impariamo a conoscere anche noi. Bene ed ora conosciamo invece le previsioni del tempo Ebbene dalla grafica si evince questa mattina che continua il tempo perturbato con piogge diffuse su tutta la regione Marche e seguirà una giornata instabile con fenomeni sparsi e di intermittenti. Insomma il cielo è nuvoloso l'umidità è molto molto alta. Sulle coste i venti ispireranno da est nell'introterra da sud ovest le temperature sono presso a poco uguali, si mantengono stabili sia di notte che di giorno 12 gradi la minima e 12 gradi la massima. Non c'è insomma una variazione di clima Vediamo anche il sole. Il sole è sorto alle 6.49 e tramonterà alle 7.57 Queste le previsioni del tempo. Ebbene prendiamo l'ombrello se vogliamo uscire di casa però insomma la temperatura si mantiene piuttosto mite quindi possiamo dire che questo inverno non è stato molto molto freddo anche se stanno arrivando proprio in questi giorni le bollette del gas insomma apritele con una certa circospezione. Ecco le aperture dei quotidiani questa mattina cominciamo dal Corriere Adriatico. Si parla in apertura del bilancio partecipato questo nuovo provvedimento assunto dall'amministrazione comunale per coinvolgere i cittadini nel finanziare alcuni progetti che stanno a loro più a cuore. Sono iniziate le votazioni per selezionare i vincenti dei 14 progetti che sono stati scelti a loro volta da una commissione di 30 cittadini autonominate si è poi costituita in seno all'amministrazione comunale. Sono 14 progetti interessanti. Ebbene i voti sono aperti basta andare sul web sul sito del comune di Fano cliccare bilancio partecipato e poi votare uno dei 14 progetti che vengono elencati e che vengono nominati. C'è tempo fino al 10 marzo per farlo. Poi verranno finanziati dall'amministrazione comunale tutti i progetti fino a raggiungere una cifra globale di 150 mila euro. Ebbene questo successo delle votazioni pensate che in due soli giorni sono stati 1.400 i cittadini che hanno votato i progetti quindi c'è stato un bel concorso a livello popolare. Ebbene l'iniziativa è stata così evidenziata ieri in conferenza stampa nella sala della Concordia dall'assessora al bilancio Sara Cucchiarini dall'assessore alla partecipazione popolare Etienne Lucarelli e dal presidente della commissione bilancio Giovanni Fontana del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che è stato favorevole questa volta a questo provvedimento è stato uno dei provvedimenti che ha sempre caldeggiato fin dall'inizio che questa proposta è venuta alla luce. Questo comunque è l'articolo di apertura del Corriere Adriatico. Vediamo invece l'articolo a fondo pagina. C'è una raccolta di firme da parte di alcuni cittadini che abitano in zona Poderino. In modo particolare questi cittadini chiedono di rivedere la viabilità di quartiere e in modo più puntuale la viabilità di Viale Europa. Viale Europa è una strada con una careggiata piuttosto limitata che è limitata ancora di più dalle auto in sosta ai lati della strada. Una strada dunque che può rendersi pericolosa che chiedono di ridurre a senso unico, ora è a doppio senso. C'è nata una raccolta di firme e questa sarà presentata all'amministrazione comunale per richiedere questo provvedimento a farsene portavoce e il consigliere comunale della Lega Luigi Scopelliti. Le memorie letterarie e l'impronta vitruviana, una nuova iniziativa che questa volta verrà effettuata a Palazzo Bracci e alle 18.30 di venerdì 8 marzo. Non oggi, dunque, venerdì della prossima settimana. Un convegno a Palazzo Bracci, Palazzo Bracci e in via Garibaldi. Vediamo l'altro articolo di apertura nella seconda pagina. Si parla di sanità e della polemica che è intercorsa tra il centro-sinistra, in modo particolare il sindaco Massimo Seri e il Movimento 5 Stelle per il diverso atteggiamento che il Movimento 5 Stelle ha manifestato a Pesaro rispetto che a Fano, dove il giudizio sulla clinica privata di Pesaro è stato favorevole, mentre nel passato il giudizio sulla clinica di Chiaruccia era contrario. Il sindaco nemmeno però si informa, replica la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, è ambiguo il suo ruolo politico. Clinica privata, Ruggeri replica a Seri e polemizza sulle elezioni. Marta Ruggeri, dunque, ha risposto per le rime al sindaco Seri che il giorno precedente le aveva rimproverata di incoerenza. Un attacco pretestuoso, ha dichiarato la Ruggeri. La coordinatrice non accetta elezioni di coerenza, tanto che intende chiedere al segretario provinciale di Azione, il partito a cui è iscritto Seri, di chiarire il ruolo politicamente ambiguo del sindaco. Il sindaco si è trovato in una posizione, forse anche da lui, inaspettata, perché ha aderito anzitempo al partito di Azione, Azione di Calenda, e poi questo partito invece è andato con i progressisti, contestando l'operato della Giunta. E quindi lui si è trovato a contestare se stesso, quindi in una posizione veramente spinosa per quanto riguarda il primo cittadino. Ebbè, insomma, continuano le polemiche, ma è interessante notare come le polemiche sono più virulente tra esponenti del centro-sinistra e sinistra rispetto a quanto dovrebbero essere con gli avversari veri, che sono quelli del centro-destra. Insomma, vediamo come la situazione in questo momento ristagna tra il fuoco che dovrebbe essere amico, ma amico non è. Ed ora parliamo di piano regolatore. Parliamo di regolatore perché il 20 febbraio scorso è scaduto il termine per presentare le osservazioni al piano regolatore. È un momento importante questo delle osservazioni perché i cittadini possono così presentare le obiezioni, le proposte, alle previsioni che sono state effettuate dalla Giunta. Ebbene, sono state diverse le osservazioni che sono state presentate. Lupus in fabula ne ha presentate addirittura 59. Ebbè, l'upus in fabula ha così rivisto il piano regolatore secondo una visione prettamente ambientalista. e vediamo qual è un po' il senso di queste osservazioni. Ebbene, lo scopo principale è quello di diminuire la potenzialità edificatoria a vantaggio della salvaguardia del suolo agricolo, della biodiversità, del verde privato, della salute umana e in sostanza della qualità della vita. Insomma, bisogna ridurre ancora il consumo di suolo, bisogna ridurre le edificazioni, lasciare più spazio al verde. Questa è un po' la soluzione presentata dall'associazione Lupus in fabula. Ma se vediamo anche il resto del Carlino per quanto riguarda le osservazioni presentate al piano regolatore, vediamo quest'articolo di fondo. Il piano regolatore, punto interrogativo, c'è mentificatorio nonostante le promesse. In totale sono state 270 le osservazioni presentate che ora devono essere contraddotte secondo lo studio che faranno i tecnici che poi sarà presentato nel Consiglio Comunale. Ebbene, tra queste c'è anche un'osservazione che riguarda la società termale di Carignano ed è presentata dal gruppo Gestioni Spedalità Private, società proprietaria di gran parte dell'area termale a cui fa riferimento il progetto di rilancio delle terme. Ebbene, cosa dice questa società? Che cosa chiede? Ebbene, la spa con piscine, la ristorazione e tutto quanto che dovrebbe essere realizzato su questo territorio insieme a un hotel a 5 stelle dovrà, dicono, sembra che a bloccare il progetto sia un cavillo del piano regolatore. Questo insomma lo comunica, lo osserva Stefano Pollegioni che è segretario del Udc. E ancora Pollegioni dice la presentazione dell'osservazione conferma l'interesse della società a portare avanti il progetto a prescindere dai posti letto convenzionati dalla clinica privata. Che cosa dice in sostanza Pollegioni? Pollegioni dice che se la società ha presentato un'osservazione al piano regolatore in merito alle terme, questo evidenzia la sua volontà di portare avanti nonostante il silenzio che è seguito alla presentazione del progetto nel novembre del 2022 e quindi non è tutto svanito come sembrerebbe dal silenzio che è seguito. E poi sono invece 59 le osservazioni presentate dall'associazione ambientalista Lupus in Fabola. Progetti cittadini decideranno con un voto online anche il resto del carlino interviene sul bilancio partecipato invitando i cittadini a votare molti lo hanno fatto come ha detto in due giorni 1.400 voti è un esitato eccezionale che è stato evidenziato sia dall'assessore Cucchiarini che dall'assessore Luca Relli. Ma torniamo al Corriere Adriatico perché vediamo che l'articolo di apertura della terza pagina è dedicato al recupero del villaggio ciano. Fino a poco tempo fa gli stessi fanesi poco sapevano che avevano nell'ambito del contesto urbano un villaggio ciano insomma non è che si conosceva molto invece secondo un finanziamento che poi non è stato ottenuto proposto dal governo il recupero del villaggio ciano un villaggio storico che si associa almeno nello spirito a tutta la situazione edilizia di Meteoriglia con le casette del Duce insomma acquista una certa rilevanza e il fatto che Fano non sia entrato nei finanziamenti governativi ha fatto sì che la Giunta non demorda a riqualificare questo angolo di città. L'assessore fanesi interviene oggi sulla riqualificazione dell'antica borgata semi-rurale. Si avverte l'esigenza di un intervento organico ha detto l'assessore all'urbanistica dopo due incontri con i residenti per raccogliere indicazioni utili è un futuro piano particolareggiato. Ebbene gli obiettivi possono essere rassunti in quattro punti ha detto Fanesi. Quattro punti principali. Il primo è preservare l'identità del luogo come insediamento originario di tutto il quartiere di San Lazzaro. San Lazzaro poi si è sviluppato attorno a questo nucleo urbano. E poi l'ente locale si prefigge di migliorare la qualità della vita per i residenti realizzando un centro di quartiere al posto del deposito comunale che si trova in fondo a Via del Dragoncino. Via del Dragoncino è una via nei pressi dove c'è il centro anziane di San Lazzaro insomma la casa di riposo fondata dalla Fondazione Carifano. Quarto obiettivo ma non ultimo per importanza eliminare gli aspetti di conflitto attinenti alla viabilità locale. Le strade sono strette sono diventate ancora di più a causa dei veicoli parcheggiati sul margine della strada e quindi occorre un po' rivedere anche qui come viene richiesto per Poderino tutta la viabilità di quartiere. Ed ora passiamo invece alle altre località siamo a Marotta a Marotta si parla della riqualificazione del lungomare un lungomare che è stato già riqualificato in una sua buona parte ora si parla di realizzare la parte che va da sottopasso togliati alle vele dove è imminente l'inizio dei lavori di riqualificazione con il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile. Vediamo invece nella foto le protagoniste di quell'opera artistica e di un'opera veramente molto bella che valorizza il lungomare un lungomosaico nella spalletta di un muricciuolo che correda appunto tutta la zona. il sindaco Barbieri con le volontarie di Mosaichiamo così si chiama la società che ha valorizzato questa bella parte di Marotta. Ed ora passiamo a questa notizia che è accaduto a Mercatino Conca a Mercatino Conca muore azzannata dal suo cane Mercatino Conca è sotto sciocche si tratta di una signora di 80 anni Mingherlina piccolina ebbene Gianna Canova era in giardino a fumare quando all'improvviso è stata azzannata dal suo cane un maremmano un ibrido un meticcio maremmano con altre razze che improvvisamente si è infuriato l'ha azzannata alla testa e quando il marito si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto purtroppo non c'era più nulla da fare e il sindaco ha reagito proprio oggi aveva sequestrato 10 pit bull che il proprietario non riusciva più a gestire aveva fatto un'ordinanza per sequestrare questi cani pericolosi purtroppo quest'altro guardate questa foto è veramente terribile non so se è una foto d'archivio oppure una foto che è proprio evidenzia il cane protagonista dell'aggressione comunque questa povera donna non ha potuto sopravvivere a quanto accaduto vediamo Senigallia a Senigallia si fa strage di alberi tranquillamente non c'è alcun problema per realizzare la palazzina delle emergenze giù la pineta dell'ospedale via ai lavori spazio alla palazzina delle emergenze approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento dei locali che ospiteranno l'attac del pronto soccorso beh a un certo punto ogni necessità in questo caso viene elevata a virtù e quindi si sacrificano gli alberi però si realizza un servizio importante per i cittadini e qua sembra che le polemiche non ci siano come accade invece in altre direzioni ed ora diamo un'occhiata alla pagina di Pesaro dove appare un gioiello del capoluogo qual è questo gioiello? ebbene ve lo faccio vedere sulla prima pagina del resto del Carlino eccolo qua l'auditorium delle emozioni è stato inaugurato ieri il palace di via dei partigiani il vecchio palace di Pesaro intitolato a Scavolini guardate che bello che è risultato dopo ben otto anni di lavori insomma la cosa è stata molto lunga laboriosa non facile a concludersi ma finalmente è stato inaugurato il nuovo palace uno spettacolo per oltre 1500 persone ebbene anche una grande emozione per il protagonista assoluto di questa vicenda per Walter Walter Scavolini è stato una standing ovation il patrone emozionato all'attesa inaugurazione da oggi per sempre sarà il gioiello di Pesaro il nuovo palace ha cambiato pelle edificio emologato coni pronto per accogliere 1500 spettatori impianto fotovoltaico impiantistica prova di risparmio energetico nuova copertura in legno sedute e allestimenti teatrali veramente un'opera mirabile che è stata compiuta Pesaro adesso ha veramente due grandi strutture abbiamo il grande palace diciamo il piccolo palace quindi ha la possibilità di allestire opere convegni manifestazioni il ROF avrà sedi alternative molto così opportune e molto belle per valorizzare sempre le manifestazioni gli eventi che verranno realizzati uno show di luci e suoni e stasera arriva anche il campione di motociclismo Bagnaia alle 21 si vissa con la consegna della cittadinanza onoraria al campione ed ora parliamo di sanità perché sembra che si sia trovata una soluzione per lo spostamento dei locali che sono a Muraglia dove deve essere fatto spazio per la realizzazione del nuovo ospedale per quanto riguarda invece i servizi psichiatrici Biancani però critica la fermentazione di questi servizi in vista del trasloco di Muraglia comunque le indicazioni le proposte ci sono ora si tratta di valutarle insomma sembra che siamo a buon punto per la conclusione della fase propedeutica all'inizio dei lavori ed ora parliamo anche delle polemiche quasi ce ne sono ogni giorno per quanto riguarda la discarica di riceci viene ritenuto ricci il responsabile il quale ha sempre confutato la sua contrarietà la sua adesione anzi a questa discarica il campo largo è in totale tilt per quanto riguarda la coesione di intenti e di valutazioni intorno a questa discarica oggi si evidenzia l'attacco della consigliera comunale di centrodestra Giulia Marchionni dopo l'audizione di Tiveroli ebbene Marchionni dice che è impossibile che Ricci non sia stato a conoscenza della Riceci finalmente riusciamo anche a spiegarci bene perché il presidente di Marche Multiservizi Pierotti e la consigliera Sara Mengucci entrambi del PD ed entrambi nominati dal sindaco Ricci abbiano votato a favore di questo progetto l'unico dato che rimane ancora oscuro è capire perché il sindaco Ricci abbia fatto finta di non essere caduto dalle nuvole come sempre gli accade quando si parla di Marche Multiservizi insomma una polemica che continua e poi vediamo l'articolo sulla situazione politica di Pesaro anche Pesaro è alla ricerca per quanto riguarda il centro-sinistra del candidato sindaco primarie e attacco a Mengucci da Ruggeri parole fuori misura anche insomma a Pesaro c'è un po' di maretta tra 5 Stelle e il Partito Democratico e poi diamo un'occhiata invece alla pagina di Urbino dove si parla del terribile incidente che abbiamo relazionato ieri accaduto sulla tangenziale di Bologna terribile schianto in tangenziale purtroppo il camionista che era su un'auto che poi è andata con un furgone che poi è andato a sbattere con un altro furgone è morto si tratta di Marcello Falconi di 51 anni di Ferminiano l'incidente si è verificato mercoledì a Bologna Casalecchio shock per parenti amici l'uomo lascia la moglie e due figli adolescenti domani si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Ferminiano c'è da tendersi uno stuolo di conoscenti che stimavano i valori espressi dall'uomo insomma veramente una situazione molto drammatica vediamo ora una prima pagina del resto del Carlino abbiamo visto anche prima abbiamo dato un'occhiata volevo segnalarvi dopo quanto detto quello che accade invece a Cartoceto il mercato di una volta rivive a Cartoceto imprenditori agricoli e artigiani insieme in vetrina le eccellenze del territorio e poi e poi i norcini con quel bellissimo profumo di salumi maestri casari vasari e ristoratori e insomma la gastronomia di Cartoceto è un pezzo forte siamo in conclusione parliamo di gastronomia anche a Durbino un nuovo ristorante in piazza il legato al Bani affiterà i locali solo a chi proporrà un'attività legata a tradizione locale e qualità vedete come la gastronomia è una componente del nostro turismo grazie per l'ascolto concludiamo qui la nostra rassegna stampa con un appuntamento a domani alle 7 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti